Per fare lo skip basso ci dobbiamo posizionare in piedi, con le gambe leggermente piegate e sulle punte dei piedi. Ora il movimento è questo, si solleva una gamba, quando ritorna una si solleva l'altra. Dobbiamo coordinare però il movimento della gamba destra col braccio sinistro che va in avanti e poi il movimento della gamba sinistra col braccio destro che va in avanti. Quindi, gambe piegate, punte dei piedi, faccio questo. Cercando con il bacino di non fare questo movimento, quindi non è questo, ma il bacino resta fermo, addome contratto, gambe piegate, vado sulla punta dei piedi.